Accordo quasi raggiunto per la cessione del Sulmona 1921 all'imprenditore pescaresse Giovanni Di Girolamo. Il titolare di Giosport è giunto nel pomeriggio in città, accompagnato dal dirigente sportivo Giuseppe Tambone e dal suo collaboratore Giuseppe Di Cosmo. Ha incontrato prima Armando Sinibaldi, che sta curando le trattative per conto del presidente uscente Maurizio Scelli, e dopo aver parlato telefonicamente con il sindaco Peppino Ranelli, è stato ricevuto dal vicesindaco Luciano Marinucci. Giovanni Di Girolamo ha manifestato l'intenzione di tornare a Sulmona, ma il percorso era stato ostacolato dalla presenza di un altro possibile acquirente, cioè l'ex patron di Mantove Grosseto, Franco Quartaroli. Ora che l'ipotesi Quartaroli è stata definitivamente accantonata, Di Girolamo considera l'accordo raggiunto al 70%, ma, ha detto, manca ancora da visionare parte della documentazione. L'avvocato deve vedere alcuni problemi fiscali per quanto riguarda il passato, come ci possiamo staccare da questi piccoli problemi che ci sono, e dopodiché prenderemo questa decisione, faremo una dichiarazione alla stampa, se il tutto verrà concretizzato. Per fare le opportune valutazioni ed eventualmente compiere il passo, è necessario almeno un paio di giorni. Abbiamo preso 48 ore di tempo per fare questo incontro e per decidere su quello che può essere l'asso societario sul mondo. Dopo l'incontro con il vice sindaco Marinucci ci si è lasciati con l'impegno di chiamare a raccolta gli imprenditori locali per creare la nuova società. Nel frattempo si pensa all'immediato. La squadra potrà scendere in campo domenica prossima nella gara di Coppa Italia contro l'Acqua e Sapone? Se entro 48 ore la decisione è positiva, credo di sì, perché i giocatori sul Mona già ce li ha a disposizione. Tra 48 ore, quindi al massimo giovedì, si avrà l'ufficialità o meno. Nel caso in cui sarà messo nero su bianco all'accordo che porterebbe al passaggio di consegne, Giovanni Di Girolamo ha lasciato intendere che l'allenatore non sarà Matteo Vullo, ma verrà scelto un tecnico locale. Cerchiamo di prendere, se tutto va bene, una persona del posto perché ci sono tanti bravi professionisti qui a Sul Mona che di calcio ne capiscono tanto, quindi non abbiamo bisogno di allontanarci da Sul Mona perché ci sono degli ottimi allenatori a Sul Mona, quindi credo che ci sarà un allenatore del posto dal mio punto di vista. Matteo Vullo ha intanto diretto oggi l'ultimo allenamento al campus di Pratola Peligna. Si aspettava probabilmente un coinvolgimento dopo l'incontro odierno, ma visto che non c'è stato, ha liberato i giocatori che stava allenando dallo scorso giovedì. Ci saranno ancora questi elementi tra 48 ore? Si attendono sviluppi entro giovedì prossimo con Di Girolamo che si è dimostrato comunque fiducioso e ha lanciato anche un appello agli Ultras che hanno creato una squadra in terza categoria. Io voglio parlare con questi ragazzi perché di vista li conosco un po' tutti, perché lo scorso anno ho seguito il Sul Mona, ho visto il cuore che mettono per il Sul Mona, hanno il cuore bianco-rosso questi ragazzi. A me fa piacere parlare con loro perché io ho le stesse idee di questi ragazzi, se vogliono fare anche questa terza categoria benvenga perché sembra una squadra sportiva che nasce a Sul Mona, sarei contento di dare una mano anche a loro a livello di abbigliamento sportivo perché di questo mi fa immensamente piacere, ma mi fa più piacere parlare con loro per averli vicino a Tifare Sul Mona perché è fondamentale avere questi ragazzi allo stadio. Io sono pronto a venire, terminando questi ultimi controlli che abbiamo da fare a livello di documentazione, però diciamo che io ho già il cuore ritornato bianco-rotto, anzi non lo è mai stato diversamente.